Buonasera, buonasera, benvenuti a Inonda, questa è la prima puntata della nuova stagione, vi accogliamo in uno studio completamente rinnovato, qui è davvero tutto nuovo, tranne... ciao David, buonasera David, David Parenzo, cioè vuol dire che sono un pezzo dell'antiquariato, un pezzo del mobilio della 7, noi abbiamo un riguardo della memoria e quindi ti abbiamo voluto tenere come testimonianza... quindi tradizione e innovazione, questo è il senso, andiamo subito, vedremo, il nostro ospite di stasera in una giornata come quella che avrete sentito, dominata dalla conferenza stampa di Conte, un passaggio epocale anche per il Movimento 5 Stelle, è la persona giusta con cui parlare, a cui chiedere che cosa sta succedendo nel Movimento e con noi il Presidente della Camera, Roberto Fico, buonasera, buonasera buonasera a voi e a tutti. Grazie di essere venuto a trovarci. Giornata complicata quella di oggi, no? Una giornata, una giornata, ce ne sono tante, sono tutte faticose. Abbiamo tante cose da chiedere, ma abbiamo una brevissima pubblicità e poi torniamo con lei. Grazie. Grazie. Tra un momento. A tra poco, eh. Buonasera, benvenuti a Inonda. Con David Parenzo stasera parliamo del tema del giorno, naturalmente apriamo sulla conferenza stampa di Giuseppe Conte su quello che sta succedendo del Movimento 5 Stelle e ne parliamo con il Presidente della Camera, Roberto Fico. Benvenuto. Grazie mille, buonasera di nuovo. Grazie di aver ascoltato il nostro invito e la prima cosa che le voglio chiedere va davvero una informazione di servizio per chi fa fatica a orientarsi. Cosa sta succedendo nel Movimento 5 Stelle? Questa è una crisi di crescita, si è parlato di genitori, un genitore, un padre padrone, un genitore generoso. Quindi è come se il figlio stessi uscendo e andando via da casa. È questo che sta accadendo? Sta accadendo che stiamo lavorando ad una riorganizzazione del Movimento ed è una delle tante fasi che il Movimento ha vissuto in questi lunghi, possiamo dire, 11 anni, partendo dal 2005, la data di fondazione dei Meetup, poi nel 2009 la data di fondazione del Movimento il 4 ottobre del 2009. E di fasi ne abbiamo vissute tante. Tutti avete sempre commentato le fasi di vita del Movimento, siamo sempre cambiati, però affondando il nostro pensiero sempre alle radici che ci hanno contraddistinto, che sono radici ben salde e adesso è un ulteriore passo e cambiamento del Movimento. Ci stiamo riorganizzando, c'è un dibattito in corso e andremo avanti, io credo che poi saremo in questo momento anche più forti di prima come Movimento 5 Stelle. Io sono molto fiducioso. Quindi lei non lo legge come un ultimatum, come se si è sentito un duello, una rottura? No, ma gli ultimatum non esistono, esiste un lavoro, un lavoro all'interno del Movimento che si sta facendo e tante forze politiche fanno un lavoro all'interno, un dibattito, questo è anche un dibattito pubblico, non vedo particolari problemi da questo punto di vista, sono un dibattito, ci sono anche delle idee differenti su alcune questioni e si affrontano, è giusto così, perché si affrontano, si va avanti e si continua più forti di prima. È molto interessante quello che lei ci sta dicendo, perché in realtà è una lettura della terza carica dello Stato, ma soprattutto in questo caso di un autorevole esponente del Movimento 5 Stelle che dice che non possiamo chiamarlo lo strappo di Conte, come magari qualche giornale domani ti tollerà. E allora se la notizia è questa, cioè che lei da autorevole dirigente militante del Movimento 5 Stelle dice che questo non è lo strappo, la cosa che le volevo chiedere è questa, guardando un po' al passato. Nei partiti della Prima Repubblica, Concilia De Gregorio lo sa bene perché lo ha raccontato spesso, i partiti della Prima Repubblica avevano questi fumosi congressi nei quali si discuteva, le correnti si ammazzavano tra di loro e alla fine usciva il leader. Però quei congressi erano un luogo di discussione, anche pubblico. Ecco, forse questo non manca un po' nella politica di oggi, cioè voi siete il Movimento, quindi nati su altre basi rispetto ai partiti del Novecento. E il risultato è che però le discussioni avvengono un po' in questo modo. Lei non lo trova un limite questo? O forse un'opportunità? Adesso a lei la parola. Sì, ma in questo momento è una discussione sullo statuto. È uno statuto, Beppe Grillo che è il nostro garante fondatore e come tutti sappiamo ha sudato sette camicie battendo l'Italia centimetro per centimetro per portare ciò che pensava rispetto alla sua visione e al Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte ha fatto per due volte il Presidente del Consiglio, sostenuto dal Movimento, e credo che abbia fatto molto bene il Presidente del Consiglio e proprio per questo è amato da tanti italiani, perché in un momento difficilissimo come la pandemia io credo che ci sia stata una gestione ottima e noi tutte le risorse le mettiamo a fattore comune per fare una grande sintesi e poter andare avanti. Poi dopo ci saranno anche discussioni. Quindi la sintesi è il ticket, lei ci sta dicendo? No, non sto dicendo una sintesi rispetto a un ticket, sto dicendo una sintesi, parlando di una sintesi rispetto al Movimento, nel senso che mettere a fattore comune le migliori risorse del Movimento io credo che possa essere un beneficio per il Movimento e poi per gli italiani. Senta Presidente, io scusi se torno sulla questione dei genitori e dei figli, ma è un po' il tema sentimentale del momento, perché davvero mi sembra che ci sia, dopo 16 anni dal primo, lei è entrato in politica nel 2005, con il meetup. Il 2005 è iniziato con il meetup di Napoli che ho fondato il 18 luglio del 2005 e da lì è iniziato un percorso anche nella mia città. Ecco, fra 16 e 18 anni, a seconda dei paesi in cui ci si trova, si compie la maggiore età e quindi è davvero come un momento di passaggio. Intanto le volevo chiedere, ma se lei cominciasse oggi a fare politica, fonderebbe un meetup? Lo farebbe nel Movimento 5 Stelle? Non lo so se oggi, iniziando a fare politica, fonderei un meetup o meno, ma non perché c'è qualcosa di affavorevole o sfavorevole rispetto al meetup, ma perché è un'altra epoca, io ho un'altra età. Io dico che sono molto contento di ciò che ho fatto, sono molto contento di come abbiamo lavorato sul territorio, sono molto contento della rete che abbiamo condiviso a Napoli e in tutta Italia, è stato un processo di partecipazione molto forte, sentito dal basso, che cercava anche di far comprendere alla politica che i cittadini andavano ascoltati, che andavano capiti, perché c'erano delle stanze che non venivano ascoltate nel territorio. All'epoca, nel 2005 e nel 2006, c'era l'emergenza di fiuti in Campania, era una tragedia, l'illegalità diffusa, insomma, davvero abbiamo affrontato delle situazioni molto difficili, la privatizzazione dell'acqua che si voleva fare a Napoli, il meetup insieme ad altri comunitati siamo riusciti a bloccarla, quindi una vera partecipazione sentita, che è la stessa voglia e la stessa partecipazione che oggi tutti quanti sentiamo. Oggi il meetup può aprirlo a qualcun altro che magari sarà un'altra avanguardia, noi continuiamo su questa strada. Di questi temi stiamo per parlare fra un momento che sono i temi che la riguardano e che la interessano, lei è un uomo che ha un orizzonte di valori di sinistra, non parliamo di politica, parliamo di orizzonte di valori, i suoi temi si esprime sui temi secondo una grammatica. Oggi Conte ha la domanda se il partito che lui intende guidare sarà un partito di destra o di sinistra, non ha risposto, ha detto un contenitore, un aggregatore e qualcuno ha commentato che ha detto che sempre la democrazia cristiana si torna, sempre sul ponte svento la bandiera bianca, perché è balena bianca, perché sempre lì si torna. Lei non è mai stato democristiano e non ha una cultura moderata di centro, si ritroverebbe in un partito moderato di centro? Ma io non credo che neanche Conte sia democristiano in alcun modo, infatti oggi ha una domanda, e ha detto che non è così. Io sono un uomo di valori di sinistra e su questo non c'è dubbio, ma partecipo e ho costruito il Movimento 5 Stelle. Che cosa significa? Significa che ho intrapreso una strada in un contenitore dove sono potute arrivare tante persone ad esprimere le proprie idee, dove magari persone che prima non si parlavano e questo è il grande valore aggiunto delle idee e oggi noi possiamo dire che il Movimento è un Movimento autonomo, indipendente, che trova una sua strada non solo nei valori e nei principi che ha attuato fino adesso, ma anche nel futuro, con la transizione ecologica, digitale, l'ambiente, la persone, i diritti. Ed è questa la strada che sta facendo il Movimento e la farà anche in futuro. Del resto, se poi oggi possiamo parlare in un modo più vicino anche al Partito Democratico sulle tematiche e portarle avanti perché condividiamo delle cose in comune, ben venga. Adesso questo ce lo spiega bene. Maria Grazia Gerina ha fatto un bel riassunto della giornata, i punti salienti dell'intervento di Conte. Vediamo il riassunto di Maria Grazia, ma lei fra un padre padrone e un padre generoso, che figlio e che padre preferirebbe essere? Padre padrone o figlio generoso? No, ma questa è una domanda che in questo momento non ha a che fare con la politica. Io dico che noi dobbiamo fare un percorso come Movimento 5 Stelle rinnovato per l'ennesima volta perché noi siamo riusciti sempre ad andare avanti rinnovandoci, facendo un dibattito anche forte internamente. Vi potete ricordare Italia 5 Stelle di Rimini, vi potete ricordare Palermo, i dibattiti, ce ne sono stati tanti all'interno del Movimento, il periodo del direttorio e siamo sempre anche mutati, cambiati, ma siamo andati avanti. Tutti ci davano sempre per spacciati, tutti ci davano sempre per divisi, ma alla fine siamo stati sempre uniti nell'andare avanti. Vediamo il punto di Maria Grazia Gerina. Perché poi ho una domanda proprio da farle sulla forma partita. Scusi se torno lì, ma secondo me è veramente determinante questa questione. Non credi così. Vediamo il servizio. Mettiamo Maria Grazia Gerina e poi torniamo con il Presidente Fico. Per parte mia sono pronto e anzi ritengo che il Movimento abbia atteso già troppo tempo. Conte risponde in diretta streaming a Grillo che lo aveva asfaltato a porte chiuse. Con Beppe Grillo sono emerse alcune diversità di vedute su alcuni aspetti fondamentali. Nulla di personale, questione di leadership. Una forza politica che ambisce a guidare il Paese non può affidarsi a una leadership politica dimezzata. Una diarchia non sarebbe funzionale. E a seguire anche questione di statuto, di portavoce, di chi deve avere l'ultima parola sulla linea del Movimento. La linea politica aspetta al leader politico. A Grillo resterebbe il ruolo di garante ridisegnato da Conte. Il garante avrà prima e avrà adesso anche la possibilità di sfiduciare il leader. Attenzione però, sottoponendolo ovviamente al vaglio assembleare. La sfida tra i due è aperta. L'epilogo temporaneo è sotto gli occhi di tutti. L'antefatto, come nel teatro greco o in fuoriscena. Le battute al veleno del fondatore, calato a Roma per riunire parlamentari 5 Stelle, è ripartito senza neppure incontrare l'uomo a cui pochi mesi fa aveva affidato la rifondazione del Movimento. Non sono certo una battuta irriverente, oppure un moto di nervosismo corrivo che mi preoccupano. Sullo sfondo il fantasma della scissione e lo psicodramma collettivo di eletti ed elettori costretti a schierarsi con Conte o con Grillo, o i più influenti a tentare di farli ragionare. Chi mi conosce sa che io non ho doppia gente. La novità e la voglia di andare alla conta è l'appello che il leader in pectore rivolge ai 5 Stelle da non iscritto. All'intera comunità 5 Stelle chiedo di non rimanere spettatrice e passiva di questo processo. Chiedo di partecipare alla valutazione sincera di questa proposta politica statutaria e di esprimersi al più presso con il voto. In ballo c'è il futuro del Movimento. Grillo l'ha fondato, Conte si è impegnato a rifondarlo. Nessuno è disposto a cedere più di tanto. Io credo che non abbia senso imbiancare una casa che necessita di una profonda ristrutturazione. Allora Presidente Fico, intanto è arrivata un'agenzia, il Ministro degli Esteri, nonché anche lui autorevole dirigente del Movimento 5 Stelle, dice Di Maio, confido nell'intesa, remiamo tutti nella stessa direzione, che è quello che ci confermava anche poco fa lei. Però riprendiamo soltanto l'ultimo spunto di questo servizio, quando Conte dice non ha senso imbiancare una casa che ha bisogno di una profonda ristrutturazione. Fuor di metafora, qualcuno potrebbe dire chi la deve fare questa ristrutturazione, però perché un conto è l'elevato, cioè Grillo, che può e deve avere un ruolo, è il fondatore, però ha un ruolo, se è elevato sta sopra. E poi c'è chi materialmente quella casa la rifà. Cioè il tema della diarchia non è un tema da poco, non crede? Ma la casa la rifanno tutti i partecipanti iscritti del Movimento 5 Stelle. Questo è di base e le assicuro che è così e sarà così. In questo momento si stanno confrontando Beppe Grillo e Giuseppe Conte anche su una proposta di statuto e come dice anche Luigi Di Maio, mi trovo assolutamente d'accordo, io penso aggiungo che ci sono due punti fondamentali. Il bene che noi vogliamo al Paese e il bene che noi vogliamo al Movimento. E rispetto a queste due cose noi troveremo la soluzione migliore per andare avanti nel migliore dei modi. Per rispetto ai tantissimi elettori del Movimento e per rispetto ai tantissimi partecipanti al Movimento 5 Stelle. E dico anche infatti a tutti i parlamentari, consiglieri regionali, comunali e sindaci di lavorare perché la direzione che prenderemo sarà una direzione importante e c'è bisogno del supporto di tutti. Ma i primi commenti sembrano andare in questa direzione Presidente, ho visto Toninelli, insomma ci sono tutti concilianti, molto concilianti. Sì perché noi siamo abituati agli scossoni, sempre, da sempre. Come Movimento appena siamo nati siamo stati attaccati da tutti e abbiamo cambiato molte volte, mille volte, ma rimanendo anche fermi a dei valori e dei principi importanti, anche a dei metodi importanti. Quindi noi siamo abituati agli scossoni e questi scossoni verranno superati. Io sono fiducioso, ma io le dico anche molto tranquillo. Però, tuttavia, voglio proprio chiudere su questo. Il tono di questa conferenza stampa, cioè il tono che ha usato Conte quando ha detto io non sarò un prestanome, non mi farò in nessun modo commissariare, è un tono molto assertivo, non conciliante. Ha usato, parlando a Grillo e l'ho detto a un certo punto, spero che mi stia guardando, ha usato un tono come a dire, queste sono le mie condizioni, non ci sto a fare il prestanome se il vero leader è un altro. Quindi sembra che ci sia una questione, cioè dal tono in cui Conte lo poneva. No, ma io non sto negando che ci sono delle questioni da risolvere, che ci sono delle questioni in corso. Io le sto dicendo che c'è un dibattito, come avete visto tutti, è un dibattito che io credo che si potrà risolvere e finalmente ripartiremo nel modo migliore. Tutto qui. Ma questo così poi passiamo subito a quest'altra straordinaria notizia di attualità. Non volete passare alla prossima? No, no, vogliamo perché invece sappiamo che per lei è per tutti noi importante, ma so che lei a questo vuole rispondere. Stavo scherzando. Perché io non è che sono un fanatico, ho 45 anni, non è che sono un fanatico dei partiti del Novecento, però questo vi siete resi conto anche voi che forse è un limite, cioè straordinaria l'innovazione della piattaforma Rousseau, poi presa e accantonata. Straordinaria l'idea della democrazia diretta, bellissima l'idea di un leader fondatore che alla fine però decide vita e morte anche delle persone e di chi tenere dentro e chi fuori. In un movimento che sta diventando maturo, come dice Concito, cioè che si prepara ad uscire di casa e abbandonare il padre, questa idea su come vi governate internamente è un tema? Ma è un tema, è un tema infatti che stiamo affrontando, però da questo punto di vista io le dico che noi siamo stati i primi a sperimentare una democrazia partecipata e continuiamo e continueremo a farlo, perché ci sarà un portale attraverso cui gli iscritti prenderanno parte alle decisioni principali del Movimento 5 Stelle, non è esclusa questa cosa, i metodi di partecipazione andranno avanti. Ma un congresso, non le piacerebbe un vero congresso di quelli che abbiamo visto con Cite e io, con tutte le delegazioni, con le emozioni, le discussioni, quello che dice? Non penso, non credo che gli piacerebbe, penso che non gli piacerebbe. Noi abbiamo tante discussioni all'interno dei gruppi parlamentari, dei consigli regionali, va secondo me il Movimento da questo punto di vista messo a sistema anche perché è un Movimento che da tre anni passa, governa il Paese, quindi è un Movimento che è cresciuto in modo molto veloce, abbiamo preso più del 30% nel 2018. Dicevo, non credo che gli piacerebbe perché se gli fosse piaciuto l'avrebbero già fatto, cioè non è quello il sistema, non è quello il metodo. Non è questo il punto, il punto è che noi siamo una forza politica che è cresciuta in modo veloce, nel 2018 abbiamo preso più del 30%, da tre anni governiamo il Paese ed è nato nel 2009, è un miracolo, è una grande rivoluzione. Non solo Presidente, ma anche passare dall'opposizione al governo è un passaggio molto complicato. Ha cercato di portare dei messaggi importanti, cioè lei incarna l'istituzione... Certo, è una storia davvero importante, le storie importanti che vanno veloci e diventano complesse, poi perché aumentano le persone, bisogna poi trovare sempre una nuova strada per poter mantenere insieme tutta questa complessità ed è quello che stiamo facendo e lo faremo nel migliore dei modi. Però volevamo parlare di calcio, giusto? Sì, tu sei tifosa, ma non ho mai... Me lo dirai, me lo dirai. Sì, sì, sono tifosa e vogliamo vedere questa foto, Presidente, un momento. C'è stata questa polemica, insomma, che non la vorrei definire grottesca, però insomma l'ho fatto, perché effettivamente, infine, la nazionale italiana, quello che ha detto è stato noi ci inginocchieremo, sapete che l'inginocchiarsi è il segnale di rispetto nei confronti del Black Lives Matter, i primi sono stati gli agenti di polizia che si sono inginocchiati per riguardo e per rispetto alle persone di colore uccise o malmenate per strada, l'Italia dice noi non lo facciamo per antirazzismo, lo facciamo per rispetto nei confronti della squadra del Belgio. Se lei da tifoso me la può spiegare che cosa significa questo atteggiamento, cosa sta dicendo la nazionale italiana di calcio, che messaggio sta lanciando? Lei è tifoso del Napoli, peraltro, giusto? Io sono tifoso del Napoli, sono tifoso del Napoli e il messaggio che vuole dare la nazionale in questo caso non lo so, io posso dire che lo sport, uno sport popolare come il calcio ha bisogno di dare dei buoni esempi, esempi contro il razzismo sono fondamentali in una società che fondamentalmente da certi punti di vista ha ancora delle problematiche rispetto a queste questioni partendo da tutto quello che è successo con gli afroamericani negli Stati Uniti d'America, quindi io credo che dove si possano dare messaggi importanti contro il razzismo e altro tipo di messaggi importanti, le squadre di calcio, gli sportivi, le nazionali devono poter incidere e farlo. E quindi non vale il principio mi inginocchio se voglio, non se me lo chiedono? O vale? Questa è una decisione della nazionale italiana, io aderirei. Vogliamo vedere un momento questo filmato a proposito? Io aderirei, vedi. Aderirei è interessante perché la vediamo in campo? Vediamola in campo un momento. Grazie in bocca al lupo a tutti, sono contento che fate questa partita oggi e che state qui che giocate e vi auguro davvero tutto il meglio, quindi grazie veramente, bravi. Grazie a tutti. Due parole al volo, Presidente, su questa squadra, che è una squadra di rifugiati come abbiamo visto, due parole al volo sul tema dell'accoglienza, dell'integrazione e anche se ha voglia di dire qualcosa, l'ha già detto in passato, ma molto eccentrico sul segno delle Giazzani, cioè a che punto siamo in Italia su integrazione e capacità di accogliere le diversità? Ci sono delle esperienze che funzionano molto bene, per esempio questa è un'ottima esperienza di un'associazione che si chiama Liberinantes ed è un'associazione che ha ristrutturato un'area in un quartiere periferico a essere di Roma, Pietralata, con un campo di pallone ed è proprio per i ragazzi del quartiere, non in sé per i rifugiati, ma poi hanno fatto venire anche i ragazzi rifugiati per fare una squadra e così ci sono queste partite di pallone e vanno in giro con la squadra. Lei è favorevole allo Iussoli, al diritto di cittadinanza per chi nasce in Italia? Lo Iussoli è un'altra questione ancora, per me anche sì, però quando si parla di Iussoli c'è un grande errore perché si parla più di Iussculture, quindi c'è il diritto di tanti ragazzi che possono avere la cittadinanza dopo aver studiato qui in Italia e dopo aver fatto un percorso importante, però al di là di questo il punto vero è l'integrazione, cioè noi abbiamo delle esperienze che funzionano molto nel nostro paese, molto in Italia e delle altre esperienze invece che non vanno bene, quindi ci vuole un'accoglienza diffusa, ci vuole un'integrazione che sia vera, reale, perché più integri persone che vengono da fuori è meno disagio per le persone che vivono nel territorio, gli italiani e anche altri, e le persone che arrivano. Adesso le facciamo vedere... Per esempio la questione degli sprarri è una questione importante perché lì l'accoglienza ha funzionato. Io forse non ho capito bene, lei è favorevole al diritto di cittadinanza, non per chi nasce non per chi nasce semplicemente sul territorio italiano, ma per chi compie un percorso di formazione e di istruzione. Quello di cui si parla, perché no, perché spesso c'è questo errore, quando si parla di ussoli anche nel nostro Parlamento, il dibattito pubblico, non è la ussoli, si nasce e quindi è la cittadinanza, si parla più di news culture, ovvero la legge che si stava portando avanti nella legislatura anche precedente, una nuova legge che dava diritto di cittadinanza a dei ragazzi che avevano fatto un percorso di studi e si accelerava questa pratica anche rispetto al percorso di studi. Più un modello tedesco, diciamo. Più un modello tedesco, un po' più rapido. Vi devo fermare, è difficile interromperla, Presidente, ma... No, sull'Ussoli invece è una cosa un po' più ampia e va elaborata bene anche con l'Europa. Le faccio vedere altri ragazzi, abbiamo un servizio di Chiara Piorette che ci porta a Napoli e vediamo i ragazzi a Napoli tra un minuto. E tu lo vedi, mi sembra vero, sembra che ti parla quando ti guardo. Io lo interpreto triste questo squadro. Mio figlio ci manca ogni giorno sempre di più. Stavo facendo una rapina, è una cosa che ho sempre ribadito che è una cosa gravissima. Mio figlio ha sbagliato, però chi stava di fronte a mio figlio ha sbagliato dieci volte. Ugo Russo aveva 15 anni quando la notte del primo marzo 2020 è stato ucciso mentre faceva una rapina. Ha puntato una pistola a giocattolo contro un carabiniere che ha sparato e lo ha ucciso. Tu non sapevi che Ugo aveva fatto delle rapine? Assolutamente. Non ti sei mai accorto che lui aveva un Rolex, è vero? Non l'hai mai visto? Non l'hai mai visto. Qua dei ragazzi si parla solo quando succedono queste cose, o vengono arrestati o vengono ammazzati. Giorno per giorno è sempre più pesante, in tutti i modi. Anche per come ci raccontano le cose, anche come... Cioè ancora oggi, noi usciamo ancora sul giornale. Il piravinatore, il murales della camorra. Oggi noi siamo le vittime, perché mio figlio è morto e sarà ammazzato. Il comune di Napoli ha dichiarato guerra a tutti i simboli collegati alla criminalità. Ruspe e picconi per rimuovere altarini e murales. Ad aprile è stato rimosso anche l'altarino in onore del baby boss Emanuele Sibillo. Davanti al suo busto dovevano inginocchiarsi le vittime del racket. Avete mai avuto la paura di finire a fare una cosa come quella di Ugo? Non lo so, lo sai, perché c'è un po' di prendere il sacco. Vengo calmito, vengo a fare la cosa, vengo a fare il campaggio. Come fai all'affaro? Cioè se tu fatti quella devi fare, la devi fare in base. La paura non c'è, capito? Questo lo voglio fare a capire. Ma solo l'adrenalina è quella cosa che ti spinge a farlo. Quando non ti viene data una base per fare un'altra cosa, dopo questo diventa come un mestiere, capito? Fa le rapine. Eh, perché è l'unica cosa che sai fare. Tolgo nel murales, tutto a posto, togli il murales. Ma per i giovani tu cosa hai concluso? Cosa hai fatto? Diamo una mano a questi ragazzi. E tutti i ragazzi di oggi giorno sono tanti, tanti, tanti ragazzi che fanno la vita che non dovrebbero fare. Presidente, che impressione le fa vedere la sua Napoli raccontata in questo bellissimo servizio? Napoli in tanti luoghi ha bisogno senza dubbio di legalità, ma ha bisogno soprattutto di Stato. Quindi ha bisogno di scuola, ha bisogno di formazione, ha bisogno di formazione per il lavoro. E dobbiamo essere vicini a tutti i ragazzi, perché i ragazzi e le ragazze sono il futuro della nostra città, ma di tutto il nostro paese. E' più importante fare il Presidente della Camera o il Sindaco di Napoli? E' più importante fare bene il proprio ruolo sempre, dovunque ci si trovi. Lei ha rinunciato però a fare il Sindaco di Napoli, come mai? Perché? Sto facendo il Presidente della Camera. Vogliamo vedere questi dati per piacere. Ah sì, il sondaggio di oggi. Possiamo vedere il sondaggio di oggi. Nel sondaggio di oggi c'è il sorpasso fra Fratelli d'Italia al 20,7 e Lega al 20,3. E' la prima volta che nei sondaggi Fratelli d'Italia è al primo posto. Che cosa le dice questo dato e pensa che per la tenuta di questo governo ci sia qualche problema? Bisognerebbe farlo dopo Conte questo sondaggio però, dopo Conte di oggi. Io credo che al di là dei sondaggi che per me da un certo punto di vista lasciano sempre il tempo che trovano, gli italiani sono sorrani e quindi quando ci saranno le elezioni decideranno ciò che loro vogliono, vogliono che possano rappresentare meglio in Parlamento. Il governo è solido comunque? Il governo è solido sì, assolutamente. Grazie Presidente Fico. Cosa c'è per lei dopo questa esperienza? Così dopo in 30 secondi, dopo aver fatto la terza carica dello Stato? Che cosa c'è nella vita di Fico? No, posso dirle tranquillamente, non lo so, per ora finiamo bene questo mandato. Grazie. Grazie Presidente Fico, grazie David Parenza, grazie a voi che ci avete ascoltato. Siamo qui incredibilmente insieme, anche domani. Ma per due mesi, tu non tendi a dimenticarlo, a domani.